Io sto con i bambini, è il titolo dello spettacolo a sfondo benefico che il primo di agosto andrà in scena nella splendida e rinnovata Rocca Malatestiana di Fano a beneficio dei bambini siriani del campo profughi di Atma ai confini con la Turchia. L'idea è nata da un collettivo di soggetti sia privati che associazioni da sempre impegnati nella difesa dei più piccoli e di altre iniziative a sostegno dei piccoli profughi vuole dare la speranza di un futuro migliore a questi bimbi attraverso il sovvenzionamento della scuola di Al-Ikma. Un evento fortemente sostenuto dall'amministrazione fanese, dal sindaco Seri e dall'assessore Marchegiani che si innesta nel recupero del progetto Fano città dei bambini e delle bambine. Da qui la concessione della Rocca come contenitore e l'onere e onore del primo evento pubblico dopo il Fano Jazz del monumento medievale. Dalla piazza d'arme della Rocca gli spettatori godranno di uno spettacolo unico e appositamente creato dagli artisti con la regia di Fabrizio Bartolucci. Questo equip di artisti che si sono trovati e hanno costruito insieme un percorso, un percorso che si articolerà tra musica e reading e teatro a cui parteciperanno anche dei bambini che saranno i testimoni veri insomma della situazione per cercare di veicolare alcune idee sul tema della solidarietà relativa alla costruzione di questa scuola in Siria. Abbiamo cercato di costruire uno spettacolo come dicevo nella conferenza stampa non pesante, qualcosa che possa avere più cromie, più colori al suo interno in modo da essere anche una vera festa, un momento di incontro vero e proprio. Noi cerchiamo da artisti di portarlo in scena sperando di poterlo trasferire questa gioia che abbiamo trovato nello stare insieme anche a coloro i quali parteciperanno e devono essere numerosi. L'ossatura del palinsesto fatta di notte, parole, immagini garantirà attimi di pieno coinvolgimento al pubblico complice anche la volgente struttura della Rocca. Siamo artisti di Fano insomma che da tanti anni facciamo tante cose anche insieme quindi per questo progetto abbiamo costruito anche insieme a Fabrizio Bartolucci proprio uno spettacolo musicale e di teatro, di parole specifico per questo bellissimo evento. Suoneremo insieme, ci mescoleremo tra di noi, saremo un unico grande gruppo che si forma solo per questa serata e avremo anche un ospite che è Iskra Menarini, una cara amica che ha lavorato tanto con Lucio Dalla che collabora con noi da tempo ma saremo tutti insieme un'unica grande band per questa che dovrà essere una grande festa di solidarietà per uno scopo importantissimo. Mi raccomando venite numerosi.